Guglielmo, seconda parte. Una sera Luca invitò Guglielmo a mangiare una pizza in centro con un gruppetto di amici e mi chiese di unirmi a loro per presentarmelo. Finalmente lo conobbi e Debbie, conferma di ciò che avevo capito di lui dai racconti di mio fratello, Guglielmo era un ragazzo di 25 anni, invecchiato prima del tempo, era anacronistico in tutto, nell'abbigliamento, nell'atteggiamento da persona d'altri tempi, nella ricercatezza dell'eloquio, nelle idee politiche reazionarie e nell'assenza di stupore e curiosità verso un mondo in continuo cambiamento. Era privo di qualsiasi strumento che gli consentisse di comunicare con i suoi coetanei che criticava invece con ostentata saccenteria. La mancanza di interessi lo allontanava dalle tante novità culturali che si presentavano, dalla musica al cinema, dalla letteratura all'arte. Era ancorato ad un'epoca elitaria fuori dal mondo. Riferendosi ad una bellissima amica di mio fratello, buona e famosa per essere andata a letto con tutti, disse, Luca sono incantato, è una fanciulla meravigliosa, dai tratti botticelliani. Quando la potrò rivedere, mi ha colpito nel profondo, ha un'aria romantica ed esprime purezza. Me coglioni, dissi tra me. Diversi ragazzi presenti sghignazzarono, avevano più volte beneficiato delle prestazioni di quella tipa che chiamavano in modo triviale nave scuola. No, Guglielmo non aveva alcuna pespicacia, zero assoluto. Mi suscitava tenerezza e mi venne sospetto che non fosse mai stato fidanzato. Ma chi avrebbe voluto un ragazzo così privo di ironia, presuntuoso, critico nei confronti di chi provava a contestarlo? Quella sera lo osservai bene, catturando le modulazioni della voce, la mimica, il modo di fumare una sigaretta dietro l'altra, ma soprattutto la fatica che gli costava alzarsi dalla sedia a causa del peso considerevole. Poche ore bastarono a soffocare qualunque curiosità di vederlo ancora. Era semplicemente noioso, sentenzioso. Lo incontrai di nuovo dopo cinque anni, dietro insistenza di mio fratello. Era il suo compleanno e ci teneva alla mia presenza, anche perché ero diventato famosissimo con un sacco bello. Un successo che tuttavia, giusto per non smentirsi, l'aveva meravigliato molto. Casa sua, il palazzo nobiliare, in cui ci aspettava, era pregevole ma trascurata. Il tipico scenario da nobiltà in declino, bei quadri, raffinate oggetti d'arredamento e qualche busso settecentesco, crepe e infiltrazioni sulle pareti e cumuli di polvere. I partecipanti alla festa erano quasi tutti uomini, solo due le donne, la sorella, che fumava quanto il fratello e una ragazza decisamente attraente, dai lunghi capelli castani sciolti, con un viso incantevole. Pare che Guglielmo l'avesse conosciuta ad un concerto e da quel momento aveva iniziato a corteggiarla follemente. Il mio amico Fabio, noto sterminatore di cuori femminili, presente quella sera, era certo che la ragazza non fosse affatto una santarellina come appariva. Guglielmo, secondo Fabio, aveva acchiappato un palo clamoroso, eppure tutti noi facevamo il tifo per lui, per tenerezza. In quei cinque anni il suo peso era ancora aumentato. Ricordo che fu una buona cena. Al termine mi cimentai in un'imitazione di Guglielmo, che fece ridere tutti, tranne ovviamente lui, anche perché il suo oggetto del desiderio si piegò in due dalle risate. Quando poi lui consegnò alla ragazza un pacchetto infiocchettato, capimo che le chance di conquistarla erano pari a zero. Lei lo scartò. E che c'era dentro? Un'edizione dei sonetti di Shakespeare. Sulla prima pagina del libro c'era una lunga dedica, zeppa di espressioni a dir poco arcaiche, che avrebbe potuto scrivere un vecchio professore di letteratura. Lei ringraziò con un sorriso imbarazzato, senza dargli nemmeno un bacetto. Per fortuna a mitigare quel clima di imbarazzo pensarono i padroni di casa, che si immaterializzarono nel salone per un rapido saluto e per chiedere se avevamo gradito le pietanze. Il padre si lamentò dei tre camerieri, che secondo lui erano approssimativi, e partì un incredibile parallelismo tra la servitù negra, aggraziata, efficiente, e la servitù romana, tremendamente buzzurra. Un insensato discorso colonialista fuori tempo e fuori luogo, come tutte le cose che si dicevano in quella famiglia. Nel finale di serata arrivò la torta a cioccolato e panna con 30 candeline. Guglielmo, nel prendere fiato per spegnele, finì per rivelare una dispnea impressionante, comune a chi soffre di enfisema polmonare. I genitori furono gli unici a non abbracciarlo, limitandosi ad un applauso accompagnato da un formale «Evviva!». Dopo alcune settimane, Luca mi raccontò che Guglielmo era giù di morale. La ragazza dei suoi sogni era sparita. La depressione l'aveva portato ad esagerare, col fumo e gli alcolici. Era ingrassato ancora e sembrava più vecchio di quello che era. Si era rintanato tra le sue quattro mura e le rare volte che usciva prendeva l'auto da solo. Siccome l'autista governante, che prima lo accompagnava, era andato in pensione, si era finalmente deciso a prendere la patente. Per un bel po' non lo vidi più. Le poche notizie me le forniva Luca, che continuava a nutrire per Guglielmo un affetto profondo. Per dissipare la solitudine in cui era immerso, lo invitava spesso ai concerti e una volta a settimana giocavano a scacchi.